Musica Bella a tutti folli e bentornati su Darkfalle Channel con un nuovo video su Minecraft Quest'oggi come vedete ci troviamo sempre su Glacier's Craft per fare le Skywars E mentre mi imbutto nel portale per cercare una partita Vi ricordo sempre di lasciare un like qui sotto ai miei piedozzi se volete che continui questa serie Dato che ormai è una serie, siamo arrivati quasi a 40 episodi Quindi dobbiamo arrivare a 160 like se volete vedere il prossimo episodio Vi ricordo sempre anche di lasciare un commento se mi volete consigliare qualche minigioco simile agli Skywars Oppure agli SG dato che come avete capito sono i minigiocchi che mi stanno prendendo di più in questo periodo E anche una condivisione Quindi adesso iniziamo sperando che non ci sia nessun lezzino che si tipi dietro di me Con le Ender Pearl Allora qui non abbiamo trovato neanche una spala o come mi piace dire un ciuffolo Invece qui abbiamo trovato un casino di cose importanti ragazzi Siamo full armatura Andiamo qua sotto Il server sta lagghiando un po' mi arrivano i comandi un pochino in ritardo O meno Arrivano il server un pochino in ritardo Allora 8 mele d'oro Benissimo Perfetto per iniziare la partita E qui c'è uno Mic3000 Che non mi ha scritto nulla Quindi ho il permesso di ammazzarlo Penso Ok Comunque mentre sto andando da questo e mi sembra anche FK Non scherzavo non FK Parliamo Molti di voi mi hanno chiesto se sto iniziando una serie quando le inizio Metano e gli altri Ragazzi ci stiamo organizzando Stiamo cercando di fare le cose per bene Stiamo cercando di creare un pacchetto che non finisca come quello della fellowship Ovvero per chi non l'avesse vista era una serie vecchissima che ho fatto con Metano Comunque abbiamo ammazzato Ho questo Aveva anche una spada di diamante Ma infatti ci stava quasi per ammazzare Però lui era senza armatura per questo Ho vinto Dunque qui c'è anche uno che sta Dove vuole andare Non lo so Sì certo Server lag ancora di più Oh qui c'è uno Vediamo se riesco ad anticiparlo Facciamo così 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 Perché ho fatto l'altro blocco Non lo so È perfetto Sì Buttami la lava Certo Pezzo Ok Chi ha laggato di più Io o lui Avete visto ragazzi Il server sta laggando così tanto che Pente questo qua era saltato nell'isola E stava cercando di colpirmi Ah cioè Io becco e muore dopo sette minuti Poco lag Mi dicevano Però Ormai è iniziato qui Le prime partite che ho fatto Non laggavano Pente ho iniziato a raccare E il server inizia a laggare Mi sembra giustissimo Dunque siamo rimasti in tre Uno che lì sta facendo la torre di Mordor E qua c'è Z Matti PvP Che mi sembra abbastanza pro Ok Abbastanza pro E quindi devo stare attento A non farci una figura di merda Facciamo così Così Ma non se l'aspettava Non se l'aspettavi amico Mi ha buttato giù Grazie Z Matti Troppo simpatico Ok Seconda partita Speriamo Vada decisamente meglio thatta quella di prima Perché Z Matti Mi ha buttato come avete visto Giù dall'isola Ok Qui c'è qualcosa di buono Più o meno Anzi non ho trovato niente di buono A parte questa spada di ferro E qui ci sono altre cose Altre cose inutili Perfetto non ho trovato niente Di niente Comunque siamo nella mappa quella con il diamantozzo là sopra E per fare qualcosa di buono Devo per forza andare al centro Perché non ho trovato nulla nella mia isola Mi sembra strano che ho due chest forse una sotto la lava Ma non ho idea Quindi Facciamoci qui la muraglia cinese Che serve per farmi chiedere giù Per non farmi chiedere giù Ok Questo qua dieguinaloso Mi sembra uno spagnolito Speriamo che non ci provi a buttarmi giù Ecco si sta Ha fatto l'angolazione perfetta per buttarmi giù Sì? Sei sicuro? No 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 Cazzo Magari il server smettessi di laggare Mettiamo un blocco Ok Questo qui Devo stare attento Molto attento Anche perché questo doppio muro Mi fa vedere se c'è qualcuno altro dall'altra parte Che mi vuole ammazzare Quindi facciamo così Giriamoci così Allora è morta gente Si sono morte due persone Perfetto Adesso dobbiamo Continuare a fare il muro Lì c'è uno Vediamo se riesco a buttarlo giù Non mi può fregare le cose del centro Oh Non è caduto giù Ovvio Ok lì c'è uno Come faccio ad andare al centro Forse smetto un pochino di fare qui il nabetto E mi vado A fare il megaponte Facciamo così Veloci Ok Mettiamo quest'altro blocco Un pochino di parkour Ok qui dovremmo essere Stavo per dire assicuro Col cavolo che sono assicuro Chiudiamo un pochino qua le entrate Così non ho brutte sorprese Però già qua c'è stato qualcuno Che è andato al centro E ha fatto Sta mega torre Quindi già qualcuno Mi ha fregato tutto Ma è una gioia Facciamo così Forse la stiamo attaccando In modo stealth Non si è accorto che ci siamo noi Questa fuck Uno è finito giù Ok siamo sotto No 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 La lava La lava mi ha buttato lo stronzo No ragazzi In sta partita Ho trovato troppe cose proprio Sono senza parole Allora ragazzi Non so se avete capito Cos'è successo Perché noterete Un taglio improvviso Ma questo è quello Che ho visto io C'ero lì E sono morto Non si sa come Cioè oggi Glacierskaff Sta dando davvero i numeri Come si suol dire Comunque Allora Siamo in questa terza partita Siamo sulla mappa Quella tutta aranciosa Speriamo almeno di vincerne una Non lo so Prima non ho trovato niente Nelle chest Quindi proprio Sfigata al massimo Allora Qui cosa c'è Chest che si apre dopo 20 minuti Queste cose qui Ok Perfetto What the fuck Vabbè Meglio Non guardare il lag Altre due chest Ok Perfetto Chest Spata di diamante Perfetto Me la d'oro 16 me la d'oro No ora sto trovando Prima niente Adesso tutto Ok allora Andiamo verso l'isola di questo Che mi sembra partita Abbastanza a ritardo Facciamo così 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 No Aspettate Ok Mi si era aperta Una strana finestra Non mi faceva vedere Assolutamente nulla Oh no 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 Oh no no Cavolo Stava provando quello con me Tu non hai il mele d'oro Verro? Sì ce li ho Allora facciamo La mossa Sta qui Vediamo se posso buttarlo giù No Guarda come la chi serve Di sicuro lui mi sta raccolpendo Dove What the fuck È finito giù? Ah È finito giù Ok Guarda come si teletrasporta Non ci credo Ho messo la lava Forse non se ne è accorto What No ma questa qua È la kill aura Questa è la kill aura Sì vabbè va Vabbè ragazzi Sono senza parole Cioè Questo server Sta peggiorando Sempre di più Dico Che per almeno Un'altra settimana Non registro su questo server Non vado su main combat O altri Ma qui non registro Più Ho trovato Che il server lag Come le mucche Va Allora Cerchiamo Di prendere qualcosa All'interno delle chest Mele d'oro Ok Da sotto c'è qualcosa Dimmi di sì Ok Caschette Tutte queste cose qui Però neanche una meladora Ovviamente Perché Queste partite sono troppo fortunate Oggi Non esageriamo con la fortuna Ok Qui c'è Wewe We'rewolf Quello che ho ammazzato prima Speriamo che non ci sia anche l'hacker Che secondo me Le deve dare la kill aura Perché mi ha spinto troppo Mi beccava con ogni colpo Anche a distanza Oh no 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 Tu Lezzo Mi vuole la buttare giù Ok Facciamo così 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 Facciamo così Ancora la scaletta Questa volta mi vendico io Dai la mega lag Fallo beccare Scherzavo Saliamo sull'albero Di questo Ok Attacco dall'alto Prendiamo la meladora E andiamolo Ad attaccare Dove è finito We're Wolf Ah si è buttato giù Ok Ha avuto paura Adesso venuto Comunque andiamo nell'isola Che sta poco accanto Dove c'è Cavobrio Carbarino Che nome ha Comunque siamo rimasti Già in tre Io Lui E dov'è Lara Non la trovo Vabbè Ok facciamo così Mega torre Delezi Torre Lezzorum E direi anche Vediamo se riesco a buttarlo giù da qua Perché non ha capito che dall'alto Io una maggiore portata L'ho ammazzato Ok È rimasto l'ultimo Che non mi fa renderizzare Quindi O è là sotto O non ho idea Cerchiamo di non farci ammazzare almeno Cerchiamo Ah ecco lì E lì E lì Se non si è accorto di noi Cerchiamolo con le palle di neve Oh Oh E non è morto Non ha capito da dove l'ho attaccato Va bene Facciamo il ponte dritto Perché tecnicamente Non mi dovrebbe ammazzare Se faccio il ponte così Come non sono riuscito a buttare lui giù Ok perfetto Togliamo l'acqua Facciamo così E certo Sei dove What the fuck A chi sta attaccando Sono dietro di te Dietro di te L'ho buttato giù Sì Non ci vedo Ho vinto Forse Sì ho vinto Comunque ragazzi Una partita su tre Perché l'altro laggavano Per questo non l'ho vinto Ovviamente Non perché sono scarso Verro Comunque Vi ricordo sempre Lasciate un like Di commentare Se anche non l'avete fatto Di iscrivervi E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao 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 Ciao